www.feyyaz.tv 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 O NAPOLA! Ma cosa c'è confusione? Da curva via sta cristiana! Ma voi c'è fuori da me? Vado a arrangiare! L'arte di arrangiare si l'aveva conoscete proprio! Arrangiatevi! Io mi sto ancora arrangiando stamattina! Un po' ti amo! Ma boia, forza NAPOLI! Ma brevi! Forza NAPOLI! Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! A me! Ieri mi ha posseduto davanti a tutti! Che schifo! Ma che state facendo la messa canta? Signora, evitate i gesti e andiamo avanti! Ieri è il compleanno il mio figlio Michele! Quello mi ha dato manco un canso che il mio figlio si è messo a cambiare! Ma ha preso il braccio e il mio figlio si è messo a cambiare! E poi lì mi ha dato manco un canso per il mio figlio! Ho detto che ti ha lasciato i particolari! Ah! E come mai? 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 Quello nel pomeriggio mi dice? Pulisci tutta la casa! Fa la benna tosse! E ti metti vengo! E ti posseggio! Ah! E tu da buona donna quale sei? Hai fatto la tosse per tuo figlio! E ti faccio la pastizia e riva! Signore santo! L'ultima volta? Ma poi sei tutto davanti a tutti in mezzo a Piazza Piocos! E che è questa Piazza Piocos? Ma che se non so come niente! Ma non so se... Allo segato che a me non so il numero che hanno scritto! A me non so... E quella si chiama Piazza San Piodecimo! Qua Stiox! S puntato! Piodecimo! E Aixi! O'lum! Hai ragione? Tra la città così! Ma come? In mezzo a una strada? Vabbè ma tu ti sarai ribellata no? Eh! Mi ribellò! Fa già avanzata! Rimane va che il suo padre Leonardo! E mi va che qualcuno so! E' là che sta a fare! Ma che sta a fare! Signore santo! Ma che sta succedendo stamattina? Vabbè io ti assolvo nel nome del padre e del figlio dello Spirito Santo E dici 100 Ave Maria! A te sì! E 100 Padre e nostro! Eh! E' il suo padre! Si è Mario di Marocanze! Ah sì? Ah sì? Allora anche 100 Salve o Regine! Ma a te! Ma a me sta stato togliere i dati! E' un sazzi che tiene che fa! Ma a te lo metto il puto io! Andai lì! Na 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 Grazie a tutti